Parliamo di attrezzature per il centro di revisione, parliamo di MCDCnet2, parliamo di investimenti. Il programma della Forza del Network è articolato, offre tanti servizi, tanti beni, c'è una linea, c'è un accordo di cui nel nostro programma siamo particolarmente fieri, particolarmente orgogliosi ed è l'accordo per le linee di revisione insieme a Space e MAA. Ne abbiamo parlato anche nel nostro Decra Magazine, nel numero di marzo, ne abbiamo dedicato ampio spazio e questo accordo, questa proposta è la migliore dimostrazione, secondo noi, del concetto di libertà di scelta che Decra, con il programma Forza del Network, offre ai propri affiliati. Come nasce questo progetto? Perché siamo entrati nel mercato delle linee di revisione? Intanto una precisazione importante, le linee a marchio Decra non vengono prodotte da noi e neanche commercializzate, non è nella nostra filosofia, non è nella nostra mission, non è neanche nelle nostre capacità, non abbiamo un'organizzazione per la vendita diretta, saranno i nostri partner che cureranno questo, però era importante per noi avere una linea, avere il ferro a marchio Decra, perché? Facciamo un balzo indietro, nel luglio del 2009 abbiamo commissionato una ricerca alla società GIPA, una società di ricerche di mercato specializzata nel settore automotive, volevamo conoscere la soddisfazione vostra nei nostri confronti, circa un terzo di voi è stato contattato, è stato intervistato telefonicamente, sicuramente molti di voi se ne ricorderanno, le domande erano tante, parlavano, chiedevamo del rapporto Decra nei vostri confronti e viceversa. Tra le tante domande che abbiamo fatto, tra le tante cose che abbiamo voluto investigare, c'era un punto importante proprio in previsione dell'avvento di MCDCnet2, degli forti investimenti che ci sarebbero stati in direzione delle attrezzature. Noi abbiamo chiesto sostanzialmente se Decra dovesse aggiungere alla propria offerta le attrezzature, lei prenderebbe in considerazione l'ipotesi di sostituire l'attuale fornitore. Bene, il 73% degli intervistati ha detto di sì e le motivazioni sono state diverse. Quindi per noi è stato un punto di riflessione molto importante, un momento di ragionamento strategico proprio perché avremmo cambiato radicalmente la nostra proposta, la nostra filosofia nei vostri confronti. Il programma Forza del Network era già articolato, tanti servizi, però ci rendevamo conto di una situazione di rischio. MCDCnet2, l'adeguamento alle attrezzature vi avrebbe portato a spendere migliaia di euro. Chi si ricorda il primo protocollo MCDCnet Hold, come oggi viene chiamato, si ricorda anche di aver speso un sacco di soldi in attrezzature, in software. Ecco, il nostro timore era, un forte investimento avrebbe magari comportato dei danni, degli svantaggi ai nostri affiliati, noi non saremmo stati forse in grado di dare un aiuto concreto attraverso i normali accordi quadro, in più ricordando quello che era successo anni fa, ci sono stati anche fenomeni, diciamolo pure di speculazione da parte di alcuni commercianti e volevamo soprattutto evitare questo fenomeno, era un rischio troppo forte. Avrebbe potuto addirittura comportare una minaccia per Decra perché di fronte a tanti esborsi, magari in una situazione di mercato come quella attuale c'era da fare una scelta per risparmiare e forse ne avremmo potuto risentire noi stessi. Quindi la scelta era entriamo nel mercato del ferro, non direttamente ma attraverso un accordo forte, un accordo quadro, una trattativa importante per la nostra rete, per dare loro un grande vantaggio, nella logica poi della libertà di scelta. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato ovviamente i nostri partner storici e abbiamo contattato altri produttori di attrezzature. A tutti abbiamo posto la stessa richiesta, vogliamo offrire alla nostra rete, ai nostri centri di revisione attrezzature per l'adeguamento in MCDCnet 2 a condizioni premium, a condizioni vincenti. Le risposte sono state diverse, due hanno capito l'essenza della nostra filosofia, della nostra strategia, hanno visto la grande opportunità che un network e voglio ricordare che all'interno di un centro di revisione collegato al centro di revisione ci sono altre quattro categorie merceologiche, quindi c'è un'officina con dei ponti, c'è un gommista con degli smontagomme piuttosto che altre attrezzature, c'è una carrozzeria, c'è un elettrauto, hanno visto la potenzialità e hanno seguito e hanno sposato la nostra richiesta. In sostanza l'accordo è stato chiuso con l'italiana Space e con la tedesca Maa attraverso la filiale italiana Sipav. Come sono stati strutturati questi accordi? Chiaro, non volevamo avere prodotti uguali che si cannibalizzassero uno con l'altro con una concorrenza magari ulteriormente accentuata e la scelta è stata secondo noi molto molto vincente perché l'italiana Space punta a una buona qualità ma ha sposato insieme a noi una strategia di prezzo. Dall'altro lato la tedesca Maa, già partner di Decre in Germania, garantisce il top di gamma a livello mondiale qualitativamente e i prezzi che abbiamo concordato sono sicuramente vincenti perché sono da grossisti. Una logica quindi win-win dove tutti vincono, vinciamo noi come Decre perché siamo in grado oggi di offrirvi qualche cosa veramente di eccezionale da un punto di vista di qualità e di prezzo, vincete voi perché avete la possibilità di acquistare dei prodotti di qualità a condizioni estremamente convenienti oppure avete la possibilità ed è questa la forza di libertà di scelta di confrontare le nostre offerte, l'offerta dei nostri partner con i vostri fornitori abituali. La filosofia di forza del network è libertà di scelta, volete restare col vostro fornitore abituale? Qualunque siano le vostre argomentazioni sono valide perché sono le vostre argomentazioni, ma oggi avete la possibilità di raffrontare la nostra offerta, i nostri prezzi con i prezzi del vostro abituale fornitore. Diamo un esempio di prezzo a questo punto, se scegliete la linea space, una linea space completa costa 20.060 euro, costruita sul prezzo industriale chiediamo anche i 60 euro, ma il prezzo è sicuramente vincente. Preferite andare perché avete una forte produzione, una forte quantità di revisioni annue? Bene, ma è sicuramente la risposta giusta, uno sconto quasi da rivenditore 35 più 5 vi permette certamente di ottenere le migliori condizioni oggi sul mercato. Assistenza e garanzie sono altrettanto d'alto livello, l'assistenza è garantita in tutta Italia, è tempestiva, ci siamo assicurati con i nostri partner che questo aspetto chiave venga garantito e quindi l'invito che facciamo tutti voi è di aprire le porte ai commerciali dei nostri partner, ascoltarli, sentire le loro proposte, confrontarle e poi scegliere in assoluta libertà di scelta. Grazie a tutti.